E' ben ritrovati con la nostra informazione qui su Esperia TV, canale E15. Iniziamo subito con il primo servizio dedicato all'inaugurazione del corso interateneo di laurea in medicina e chirurgia. E' stato inaugurato a Crotone nella sede di via Iapigi il corso interateneo di laurea in medicina, chirurgia e tecnologie digitali. Un momento storico per il territorio pitagorico. Per noi, Massimo Carlozzo. Giornata memorabile a Crotone per l'avvio del corso di laurea in medicina e tecnologie digitali. Questa è la sede, un corso che coinvolge da un lato l'Università di Cosenza, quindi l'Università della Calabria, dall'altro l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Iniziativa molto attesa dai cittadini, 80 i ragazzi che seguiranno i corsi. E' un corso moderno, un corso di avanguardia, un unicum nel sistema nazionale, perché accanto alla formazione medica, perché il laureato è un laureato anzitutto in medicina e chirurgia, il laureato possederà anche degli elementi conoscitivi e aggiuntivi, quindi sulle tecnologie digitali, sull'intelligenza artificiale, sulla robotica, competenze che un medico di domani, ma già di oggi, deve assolutamente possedere. In qualche modo un sogno che diventa realtà, ma soprattutto l'Università significa futuro? Beh, sicuramente lo è, lo è per questa città, lo è per i giovani di questa città e di tutta la provincia e lo è direi anche per la cultura e per quello che gli Atenei calabresi offrono. Per noi questa è una sfida che abbiamo raccolto con grande entusiasmo, perché pensiamo che sia molto, molto importante portare un avamposto appunto di alta formazione anche a Crotone, in una città che storicamente ha guidato la cultura, ahimè, ormai qualche millennio fa e che secondo me deve ritornare a ricoprire il posto che giustamente le spetta. Il corso è coordinato dal professore Marcello Maggiolini, i primi tre anni qui a Crotone e gli altri tre a Catanzaro. Una grande giornata per Crotone, per le università calabrese, l'Università della Calabria, l'Università Magna Grecia di Catanzaro, per tutta la Calabria, perché si apre il terzo polo formativo in medicina e chirurgia nella città di Crotone, non solo una nuova iniziativa formativa, ma con caratteristiche fortemente innovative, perché volte ad un'attività che implementa delle conoscenze sulle innovazioni tecnologiche nell'ambito della formazione medica. Molto soddisfatto Antonio Brambile, il commissario straordinario dell'AS di Crotone. Il valore, a mio parere, dell'avvio di questa sede, della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Tecnologie Digitali, è un valore che va al di là del fatto che potremo avere dei medici sul territorio che si possano radicare e collaborare con l'azienda sanitaria. Va al di là perché oggettivamente la comunità professionale ne trae giovamento, la contaminazione tra l'università e l'azienda sanitaria porterà sicuramente all'innalzamento della qualità assistenziale e quindi per tutti i cittadini, che poi alla fine è la missione che noi abbiamo dell'azienda sanitaria, per tutti i cittadini sarà un percorso molto importante. Tante le istituzioni coinvolte per questo importante traguardo che permetterà ai giovani crotonesi di studiare nella propria città consentendo alle famiglie di poter risparmiare. Vediamo. Un'iniziativa che dà un futuro a questa nostra città di Crotone. Sentiamo il sindaco Vincenzo Voce. Una giornata storica perché avere un corso di laurea in medicina a Crotone veramente era un sogno e questa volta si sta concretizzando. Quando mi ha chiamato la prima volta il magnifico rettore Leone, ripeto, non ci credevo. È una realtà dalla quale partiamo con grande consapevolezza perché da oggi sappiamo che ci sono 85 studenti, 85 famiglie su questo territorio ai quali necessitano di essere coccolati e soprattutto sostenuti e ai quali raccontare e svelare nei ritagli di tempo che avranno il nostro straordinario territorio. Per le conclusioni il presidente della regione, Roberto Chiuto. Sembrava una provincia dimenticata da tutti. Io credo che l'istituzione e la facoltà di medicina a Crotone, peraltro con questa specificità che darà la possibilità agli studenti di avere dopo il triennio una laurea in ingegneria informatica valga quanto i lavori della 106 che inizieranno all'inizio dell'anno prossimo. Dobbiamo costruire infrastrutture materiali ma anche infrastrutture dei saperi per collegare Crotone al resto del paese come meritano i cittadini di questa provincia. Senta Presidente, queste nostre atenei calabresi che sorprendono anche nelle classifiche nazionali e internazionali. Sì, sono molto felice di questo perché c'è davvero un clima molto positivo nel sistema universitario calabrese. Io discuto continuamente con loro, cerco di far sentire vicino alla regione e i risultati mi pare stiano arrivando perché tutte le università calabresi crescono, sono addirittura l'università che curerà il primo triennio qui a Crotone, l'Università della Calabria, è la prima università d'Italia. Quindi è bello che sul piano dei saperi la Calabria dimostri di essere eccellente. Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, è da alcuni mesi sottoposto a sorveglianza operativa da parte delle forze dell'ordine a causa di minacce e intimidazioni ricevute dal primo cittadino dopo la sua rielezione. Il provvedimento di tutela per il sindaco di Corigliano Rossano, terza città più popolosa della Calabria, è stato disposto dal questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, a seguito di due episodi che hanno fatto impennare il livello di attenzione da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Dopo la conferma nella carica di Stasi, ignoti hanno alterato gli pneumatici dell'auto del primo cittadino e sono stati manomessi i freni della benessima autovettura. Stasi, che ha presentato denuncia per quanto accaduto, avrebbe deciso di non rendere noti gli episodi per evitare di allarmare i propri familiari. E adesso cambiamo argomento, torniamo sulla vicenda di Crotone, la sparatoria al quartiere Lampanaro in cui è morto il pizzaiolo 44enne Francesco Chimirri. Le indagini proseguono serrate e intanto salgono a sei le persone indagate. Vediamo. Sono sei gli indagati per la morte di Francesco Chimirri, pizzaiolo di 44 anni, deceduto il 7 ottobre scorso dopo essere stato raggiunto da un proiettile al petto sparato da un vice ispettore della polizia, Giuseppe Sortino, di 37 anni, al culmine di una lite avvenuta nel quartiere Lampanaro di Crotone. Oltre al poliziotto, al figlio della vittima, Domenico, di 18 anni, e all'autista della vettura incidentata che deve rispondere di favoreggiamento, il PM Alessandro Rò, titolare delle indagini affidate al nucleo investigativo dei carabinieri, ha inviato gli avvisi di accertamento tecnico anche ad altre tre persone. Si tratta di due fratelli di Chimirri, Antonio di 41 anni e Mario di 36, e del padre della vittima, Domenico, di 66 anni, accusati di lesioni gravissime nei confronti di Sortino. Le persone indagate in vista dell'incarico al medico legale per l'esecuzione dell'autopsia sul corpo del 44enne potranno nominare i loro consulenti di parte abilitati ad assistere all'esame autoptico che potrebbe svolgersi martedì. Sul luogo dove è avvenuta la sparatoria hanno lavorato anche gli specialisti del RIS di Messina. Gli investigatori continuano a concentrarsi sul movente e sull'esatta dinamica dell'incidente da cui è scaturito l'inseguimento da parte del vice ispettore e sulla successiva lite finita in tragedia. Un arsenale composto da un'arma da guerra, sei pistole, alcune delle quali clandestine, circa 300 munizioni di vario calibro e marca, è stato scoperto dai carabinieri nel corso di una perquisizione effettuata nell'azienda di un 43enne di Marina di Gioiosa Ionica, nella Locride. Due persone, padre e figlio, ritenuti insospettabili, sono stati arrestati. L'anziano è stato sorpreso proprio mentre tentava di nascondere frettolosamente un oggetto successivamente rivelatosi essere una pistola. Da qui una perquisizione più approfondita che ha consentito di trovare le armi tra le quali anche un Kalashnikov, fucile d'assalto destinato all'uso bellico. E adesso la politica a Mormanno. La segretaria nazionale del PD, Elie Schlein, nei giorni scorsi si è soffermata sull'autonomia differenziata, partecipando agli stati generali della montagna. Un altro tema al centro dell'attenzione da parte del segretario nazionale del PD, Elie Schlein, intervenuta a Mormanno sugli stati generali delle aree interne, è stato la mobilitazione del PD contro l'autonomia differenziata. Noi dall'inizio contestiamo un'autonomia differenziata che vuole spaccare un paese che invece ha bisogno di essere ricucito nelle sue fratture e nelle sue diseguaglianze. Siamo in un territorio meraviglioso, un territorio che è di area interna, un territorio di una regione che sarebbe ulteriormente colpita da questa autonomia differenziata. Mi sembra che gli esponenti della maggioranza, parlo di ministri, parlamentari, ma anche di presidenti di regione, si siano svegliati un po' tardi, perché noi dall'inizio diciamo che per questa via si spacca il paese, si aumentano le diseguaglianze territoriali. Spieghiamo cosa vuol dire autonomia differenziata. Vuol dire stabilire per legge che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B a seconda della regione e del luogo in cui nascono e crescono. Noi invece abbiamo una bella Costituzione che parla di eguaglianza, che deve valere anche nell'accesso al diritto alla salute, che invece non è così, lo sapete, com'è la situazione della sanità in Calabria, così come il diritto ai trasporti pubblici locali, su cui il governo nazionale non ha investito un euro, non ha mandato un euro ai comuni, così come lo è la scuola pubblica, che è la prima grande leva di emancipazione sociale delle persone. Se vogliamo dare un futuro migliore ai giovani è da lì che si parte a ridurre le diseguaglianze, perché noi non accettiamo l'idea di un'Italia in cui è la famiglia, il luogo in cui nasci, a definire il tuo destino. È proprio una violazione dell'articolo 3 della nostra bella Costituzione. Allora noi siamo felici del risultato a cui il Partito Democratico ha dato un contributo importante nella raccolta delle firme e ci adopereremo in questi mesi per portare il Paese al voto e per fermare questa legge ingiusta. Quindi se ci sarà un ravvedimento lo verificheremo anche su chi sosterrà il referendum. La Calabria, la regione in cui nel corso del 2023 si è registrato l'incremento maggiore di vittime in incidenti stradali in Italia. Le persone decedute sono state complessivamente 109 rispetto alle 74 del 2022 e quanto emerge da uno specifico rapporto redatto dall'ACI e dall'ISTAT. L'aumento maggiore di persone decedute, 20 in più, è stato rilevato in particolare in provincia di Reggio Calabria. La Calabria è inoltre la regione in cui sempre nel corso del 2023 è stato rilevato l'aumento più alto in termini percentuali di incidenti con un incremento del 47% rispetto all'anno precedente. E adesso a Cosenza per la presentazione del suo ultimo libro. L'ex ministro della Salute Roberto Speranza non nasconde i suoi timori sui tagli alla sanità e all'autonomia differenziata. Saranno sempre le regioni del Sud le più colpite. Il servizio. L'occasione di parlare ancora di sanità senza dimenticare il suo ruolo di ex ministro della Salute con la presentazione del suo nuovo libro. Roberto Speranza, nella sede della Camera del Lavoro di Cosenza, propone con ottimismo il suo ultimo lavoro dal titolo Perché guariremo dai giorni più duri a una nuova idea di salute. Ma non nasconde i suoi timori sulle ultime manovre del Governo e dei prossimi tagli di bilancio in programma proprio nel comparto sanitario. La ragione per cui io sto girando l'Italia è che invece sembriamo aver dimenticato quella lezione perché in quegli anni tutti abbiamo detto mai più tagli, mai più disinvestimenti, mai più considerare la sanità una cenerentola. E invece sono due anni e ora si profila il terzo anno, la terza manovra di bilancio del Governo Meloni che è fatta di tagli, di disinvestimenti. Si torna indietro. Eravamo arrivati al 7,4% di spesa sanitaria sul PIL, ora siamo poco sopra il 6% e questo non va bene perché il 6% è la quota di collasso. E se il Servizio Sanitario Nazionale è debole, se i finanziamenti non ci sono, chi paga il prezzo più alto? Le regioni che stanno bene, le regioni forti o le regioni che hanno già condizioni di difficoltà? E' chiaro che quando i soldi non arrivano da Roma, chi paga il prezzo più alto è sicuramente una regione del mezzogiorno come può essere la Calabria, come può essere la Basilicata, come può essere la Puglia o la Campania. Quindi le regioni del sud pagano un prezzo molto molto più forte. Per questo noi abbiamo bisogno di una grande mobilitazione e per questo ringrazio la CGL, il sindacato, le forze sociali che si attivano per difendere il nostro Servizio Sanitario Nazionale. L'autonomia differenziata sarà un altro colpo esattamente in questa direzione, perché aumenta le diseguaglianze. Già oggi le diseguaglianze esistono e sono forti. Nascere a Reggio Calabria non è come nascere a Reggio Emilia, oggettivamente. La qualità dei servizi sanitari purtroppo è molto diversa tra le regioni. L'autonomia differenziata, anziché curare e ridurre queste diseguaglianze, la crescerà ancora di più. E penso che quindi bisogna opporsi con ogni energia all'autonomia differenziata e mi auguro che le persone facciano sentire la propria voce attraverso il referendum. L'ex ministro dice la sua poi sull'utilizzo dei medici cubani in Calabria. Una toppa piuttosto che una soluzione. In un'emergenza si può mettere una toppa per qualche settimana, per qualche mese. Noi abbiamo mandato medici italiani negli altri paesi, in momenti di difficoltà medici di altri paesi sono venuti in Italia. Ma nell'ordinarietà, questo non va bene, nell'ordinarietà bisogna investire formando ragazzi italiani. Ce ne sono tanti, bisogna allargare borse di specializzazione, allargare gli spazi per i corsi di medicina e dobbiamo investire chiaramente su risorse che devono strutturalmente stare qui. Perché puoi mettere una toppa, la toppa ti può durare qualche settimana, ma poi il problema non lo risolvi mica. Ed ora invece andiamo a Morano Calabro dove si è parlato di giustizia, costituzione e territorio. Carcere, costituzione e territorio è stato il tema dell'importante convegno tenutosi a Morano Calabro su iniziativa della locale amministrazione e del presidente del Consiglio, l'avvocato Francesca Rosito, che ha inteso approfondire il complesso rapporto tra il sistema penitenziario italiano, sono i principi fondamentali della nostra Magna Carta e le dinamiche sociali che si sviluppano nei territori. Alla data di oggi vandiamo di aver dotato tutte le strutture di un dirigente e di un comandante. Sono stati svolti, oltre ad aver fatto scorrere le gradatorie che abbiamo trovato in essere, sono stati svolti altri due corsi, il 182 e il 183, per cui complessivamente abbiamo superato circa 3.000 unità di polizia penitenziaria che sono state assegnate in tutte le carcere d'Italia. Si stanno facendo altri corsi e concorsi, l'obiettivo è quello di arrivare a 5.000 perché naturalmente il personale era sottodimensionato. La questione del sovraffollamento riguarda anche il carcere di Castrovilleri? Allora, la questione del sovraffollamento riguarda anche il carcere di Castrovilleri, però ritengo che non sia uno dei problemi principali. Il problema principale sono i detenuti che hanno problematiche di carattere psichiatrico e ne abbiamo anche a Castrovilleri, i detenuti extracomunitari e ne abbiamo anche a Castrovilleri e come terzo ordine di criticità è il sovraffollamento. Un'occasione dunque di confronto e riflessione sulle sfide che lo Stato nelle sue articolazioni centrali e periferiche è chiamato ad affrontare per sostenere la cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani. Abbiamo scelto di parlare di questi temi che sono interconnessi tra loro qua a Morano Calabro perché abbiamo in mente un importante progetto. Vogliamo stabilire con la casa circondariale un protocollo di intesa per permettere ai detenuti, che sono a fine pena, di poter svolgere dei piccoli lavori di manutenzione ordinaria così da poterli reintegrare, reinserire nel tessuto cittadino ma soprattutto cercare di fargli restituire qualcosa alla società dopo che delinquendo purtroppo hanno perso la loro libertà. Presenti tra gli altri il dottor Luigi Blois, funzionario giuridico pedagogico, l'avvocato Maurizio Ferraudo, cultore di diritto costituzionale Unisa e l'onorevole Sabrina Mannarino, consigliere regionale, avvocato penalista. Una donna di 87 anni è morta domenica sera all'Ocri nell'incendio che è scoppiato nell'appartamento dove viveva da sola. Scattato l'allarme sul posto nella centralissima via Marconi sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno. Utilizzando l'autoscala i vigili hanno raggiunto il quarto piano dell'edificio e contemporaneamente la porta d'ingresso accedendo nell'appartamento ma la donna era già deceduta a causa delle gravi ustioni riportate. Secondo quanto riferito dai soccorritori la donna forse per le sue condizioni di salute non è riuscita a sfuggire alle fiamme che in breve tempo hanno avvolto il divano e gli arredi vicino. Il magistrato di turno della procura di Locri sta coordinando le indagini per accertare le cause del robo. I carabinieri hanno arrestato a Mesoraca un 29enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane che era alla guida della propria auto alla vista dei militari impegnati in un posto di blocco ha tentato di disfarsi di una busta lanciandola dal finestrino della vettura. Notando il gesto i carabinieri hanno fermato l'auto del giovane per un controllo e recuperato la busta all'interno della quale sono state trovate 71 dosi di cocaina già pronte per la cessione. A seguito di una perquisizione veicolare, personale e domiciliare sono stati trovati 5.000 euro in banconote di piccolo taglio. Anche un conto corrente all'intestato è stato sequestrato. Le dosi di cocaina trovate dai militari una volta immesse sul mercato illegale avrebbero fruttato un guadagno stimato di circa 7.000 euro. Ed ora invece andiamo a Verbicaro nel Cosentino per parlare di apicoltura e rigenerazione urbana. A Verbicaro nel Cosentino si sono svolti due eventi. Foresta di Miele è a casa da me che hanno coinvolto la comunità locale in attività dedicata all'apicoltura, alla natura e alla riqualificazione urbana. Foresta di Miele ha visto la partecipazione di istituzioni locali, esperti apicoltori e associazione con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle api e sulla conservazione dell'ecosistema forestale. Dopo i saluti istituzionali, gli interventi degli esperti sono seguite le attività pratiche, tra cui la messa in dimora di albri e l'osservazione delle arnie. Parallelamente si è svoltò a casa da me un'iniziativa mirata alla riqualificazione del centro storico di Verbicaro attraverso attività di rigenerazione urbana e valorizzazione culturale. Il progetto ha trasformato il quartiere medievale Bonifanti in un centro culturale all'aperto, animato da laboratori creativi, esposizioni e performance artistiche con l'obiettivo di rivitalizzare il borgo e promuovere pratiche di ospitalità diffuse e social cooking. La nostra idea è quella di andare a recuperare i terreni dismessi che ci sono a Verbicaro, mettere a dimora delle piante mellifere e, dopo aver messo a dimora le piante mellifere, installare delle arnie. Con queste arnie cosa vogliamo fare? Vogliamo fare controllo sul territorio, perché comunque sono arnie che vengono controllate da remoto, riusciamo a controllare l'umidità, la piovosità che c'è in un determinato periodo e tutto questo poi per concludere quello che è il nostro progetto, che va a mitigare quelli che sono gli effetti sul dissesto idrogeologico, perché mettendo a dimora le piante e andando a salvaguardare quegli ambienti che ormai sono abbandonati, grazie alla regimazione delle acque andiamo anche a salvare quello che è il nostro territorio. E purtroppo come un po' in tutto il mondo l'apicoltura è in grande sofferenza e la Calabria non è da meno, ma si riesce ancora a resistere sul mercato e proprio per quei grandi investimenti fatti negli anni passati dove c'è stata una forte professionalizzazione degli apicoltori. Oggi serve uno sforzo in più su questo settore per cercare di fare maggiore aggregazione e poter uscire da questi territori con maggiore forza e competere sui mercati sia nazionali che internazionali. Il progetto a casa da me è un progetto di rigenerazione urbana, questo è un progetto pilota dove noi facciamo vedere alcuni vecchi mestieri, alcuni laboratori di vecchi mestieri e allo stesso tempo l'idea è quella di rigenerare un qualcosa, qualche struttura. L'idea era costruire un forno, cercheremo di realizzarlo prossimamente, un forno pubblico. E adesso invece vediamo che tempo farà grazie a Trebi Meteo. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà condizioni meteo buone sull'Italia, ancora alta pressione, ma intanto si avvicinano nuove perturbazioni atlantiche e a partire dalla fine di mercoledì nuovo rapido peggioramento del tempo. Come nuvolosità però per il momento ancora ce la caviamo, il nord vede sì qualche nuvola di passaggio ma nel complesso per ora nuvolosità di poco conto, al centro-sud cielo sereno o poco nuvoloso. E anche come precipitazioni per ora non capita ancora nulla, però già alla fine di questo martedì magari qualche gocciolina comincerà a interessare le Alpi occidentali e da mercoledì il nord-ovest vedrà un netto peggioramento. Comunque in definitiva, martedì è l'insieme del tempo discreto, sì qualche nuvola al nord, tanto anche un po' di foschia, qualche banco di nebbia prima mattina in Val Padana, per il resto tanto sole, clima molto mite al centro-sud, addietro sulle isole si possono anche superare i 30 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone, aggiornato scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo. Per quanto riguarda la nostra informazione è tutto, io vi ringrazio come sempre per averci preferito. Continuate a rimanere sul 15. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS